Ciao a tutti ragazzi e bentornali sul mio canale! Allora, anche oggi vi voglio far vedere un video collaborazione. Questo video è in collaborazione con Tutto Hobby, questo è il suo canale. Andatelo a vedere perché è veramente bello, lei fa dei disegni stupendi, secondo me. E la collaborazione che abbiamo deciso di fare consiste nel disegnare, nel suo caso, e fare con il fimo nel mio, questo budino con sopra il caramello e la panna. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!